Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Ring Fit Ma questa volta abbiamo un ospite speciale, ovvero Cassie Ciao Per gli amici Cicamala Giusto, giusto, è vero, è vero Quindi questa è una sfida con una delle Cicamala ragazzi L'avete chiesto, finalmente è arrivato E noi oggi ci sfideremo, ovviamente in maniera amichevole solo per farvi divertire In vari minigiochi di Ring Fit Cassie, di la verità Da quanto tempo non ti alleni 5-6 mesi, prima dell'estate Comunque se non lo sapete, Cassie è una streamer di Pokémon Millennium Loro vanno in live su Twitch E sotto in descrizione trovate sia il suo profilo Instagram che il profilo di Pokémon Millennium Poi Cassie se vuoi dire quando ti trovano in live Quando trovano in live il tuo programma Puoi dirlo così Sanno quando cercarti Allora in realtà non c'è un appuntamento fisso Però sicuramente vado in live una volta a settimana Però sui nostri social trovate sempre comunque la programmazione E poi la ricondivido anch'io quindi se mi seguite su Instagram Va benissimo così perché troverete comunque ogni lunedì la programmazione aggiornata Quindi va bene così E Cassie gioca anche ad Animal Crossing? Devo farti venire sulla mia isola Però non è ancora pronta Ok quindi segnatevi questa cosa Appena sarà pronta visitiamo l'isola di Cassie Ok Io sto partendo Sì io pure Dai questo è il livello principiante Io non ce la sto facendo perché io non ce la faccio Aiuto Ok No Oh no eccolo eccolo A me è uscito uno d'oro E anche a me ma l'ho perso perché devo un attimo capire Quando spuntano due sono difficili No aspetta io non sto capendo Aiuto Io no vado al contrario Vado al contrario Ora capisco perché i miei genitori non mi hanno comprato a chiappa la tappa Perché non era cosa per me Oh che succede che succede Oh no oh no aspetta No c'è quell'oro l'ho perso Mannaggia No ok No raga ma questa cosa è più allenamento di cervello che fisico Eh infatti Cioè devi pensare a come muovere le braccia Io mi sono confusa Io mi sto confondendo sempre Cioè o allarghi o stringi Non ci capisci più niente Quanto hai fatto? No pochissimo 3.900 Io ho 7.800 No 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 raga ma io Però mi ha dato bico Ma cioè praticamente Anche a me Eh bico Quindi mi ha fatto schifo entrare Ok Oddio Quindi praticamente dobbiamo prendere le monete Ok io l'ho mancata di tutte Ovviamente Oppure il filo delle No no ma pensavo di esserci dentro E invece no Ma no Ma no dai Ma dai ma dai Ok destra 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 dietro non riesco Dai Io le sto mancando tutte Ma io pure Ma io pure No vabbè Cioè ma non ne ho presa una Ma com'è sto fatto qua Nemmeno io Nemmeno io Ma poi li passo pure attraverso E non me ne dà Ma dai Ma che è sto Adesso Eh niente questa te la regalo Ok Non ne ho preso una ragazzi Ho fatto 250 No Madonna mi Aiuto Aiuto Mi hai dato pure G Che schifo Aspetta che Almeno quest'ora lo voglio prendere Ok E avanti Madonna mia che male le braccia Ok questa combo c'è Più o meno Ok basta Mai sono arrivata No Questo lo posso prendere Eh penso di sì Penso di sì Oh no Eh no non ci arrivo Niente Basta la lascio andare Oddio Che male le braccia Mamma 850 Vabbè Tanta roba Pure a me mi ha dato G Però io ho fatto 250 Le ho mancate tutte raga Questo gioco non fa per me Mamma mia Aiuto Quello di prima non faceva per Cassie Questo non fa per me Ok Ok Mamma mia Questo è brutto Questo è brutto No Ma tu salti Perché in realtà No Non salto Allora per adesso Non ci sono bombe Quindi Sta andando bene Guardate la concentrazione di Cassie Concentratissima Ok vede le bombe Sono arrivate Ok sì sì Sono arrivate le bombe No 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 L'ho presa L'ho presa L'ho presa In pieno No No Quasi Non riesco No Dai Sto mancando tutte le monete Che combo che ho fatto Ma che mega combo ho fatto Oh dai A parte due bombe Ho preso tanta roba Wow Ho fatto un botto Ma che voto B Voto B Però Ho preso E non so Non siamo scarsi per il gioco Perché questo è il livello principiante Comunque io ho fatto 14500 Quindi Attenzione 15400 Chessi 15400 Per l'invento è lo stesso risultato Invertito Esatto Esatto Questo è bello Questo mi piace Questo senti proprio Tra l'altro io ho Tutta la Come si chiama Tutta la I braccialetti Che mi fanno Tling 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 Non penso che lo sentiate Ma io ho sentito tutti i braccialetti Che fanno Fanno cose Fanno rumore Raga è lightning Dopo vuole andare in palestra Il bello è che io dopo vado in palestra Io da che dopo faccio solo un po' di corsa A sto punto Non mi conviene Guarda mi sono già allenata Non rompere No non mi conviene fare braccio A cose così Oddio Ok dai Dai Oh ma com'è che mi Che mi batti 14600 14600 Io ho fatto 13300 Ragazzi sono una pippa E vado in palestra Me ne vado Ma do Ok il vaso è lo stesso Quindi Non possiamo sbagliare L'hai detto eh Vabbè Questo sembra molto facile Più o meno Più o meno Non è proprio lo stesso Ma ci sto lavorando No Io l'ho fatto troppo stretto Sopra Eh vabbè pure io Sembra Un col In realtà si può anche modificare Perché se tu continui a fare delle modifiche Sopra Scendo un po' Io l'ho fatto veramente Non siamo adatte a fare i vasi ragazzi Non siamo Non sappiamo fare i vasi Noi facciamo le streamer Non i vasi Che brutto Che brutto È bruttissimo Il mio è peggio Il mio è peggio Che brutto Mi hanno dato un 71 Eeeh Oddio Avevo visto 100 Che brutto Che brutto Comunque Il tuo è meglio del mio Lei non vede il mio schermo Io vedo il suo Quindi ha sorpresa No ma sai cosa E perché vedi Guarda quando viene fuori la forma La base Doveva essere comunque più stretta Cioè devo fare anche la base Sì ma come fai a calcolare La profondità della base Questo è difficilissimo Mamma mia Non c'entra niente Con quello che devo fare No vabbè No vabbè No io poi ti mando Lo screen del mio Non c'entra completamente niente No vabbè Ho rovinato tutto Ho rovinato tutto Ho rovinato tutto Ti giuro ti devo mandare Lo screen del mio No ma io Ho fatto 3 punti 64 Mi ha dato 0 Che si Mi ha dato 0 Allora dice Se ti sono a sedia A raddrizzare bene la schiena Ti rincontro alle cosce Comprimino Ok Non fate questo gioco Con le sedi da gamer Perché batte la sedia Stiamo provando a farlo avanzato Quindi Ci dovrebbe essere più bomba Ecco punto Oddio La moneta No Fu caduto di nuovo Ok Vai vai Ok Mamma mia Le gambe Madonna Stavo prendendo una bomba Io ho il salto Ok io sono Alla rampa finale Io pure Ma oh siamo Vabbè Diciamo che abbiamo Startati insieme Però guardate No Vai Mamma mia Le gambe Guardate lei È rilassatissima Io sto morendo No 2000 Io pure 2000 Vediamo Pochino eh 10400 Dai questa volta 12100 Vedi vedi No perché sono caduta troppe volte Sono caduta troppe volte Oddio ma vedi che È difficile stare sulla linea È difficile Sul posto è difficilissimo Cioè come dovresti regolare L'intensità Vai 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 Ok 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 Oddio No le bombe no Le bombe no Ok evitata Vai vai Ok No 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 Però quando sono Quando sono scena a terra Ho perso Esatto Ho perso un po' di Corri troppo forte Chiesi Mai piano No Ho perso quella oro No pure io Aiuto Ok No 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 Corri 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 Oddio Meno male Mi sono andata C'è la faccio Oddio 5000 5000 5000 5000 5000 6300 dai Aiuto No la corsa non fa per me Vabbè questo gioco Questo gioco Non fa per me Perché ogni gioco Lo fa per me Siamo devastate Quindi Non Non fatele a casa No 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 Fatele invece Vogliamo vedere i vostri video E i vostri risultati Taggateci su Instagram Sia Cassie Che è ovviamente il mio profilo Così ci fate vedere i vostri risultati Con i vasi invasati Sì Dai dai Vogliamo vedere i vostri vasi Va bene Allora Io ringrazio Cassie Per aver partecipato A questa A questa bellissima esperienza Sportiva Grazie a te per l'invito Vi ricordiamo Che potete acquistare Ring Fit su Amazon Link sotto in descrizione E allenatevi Soprattutto in questo periodo Natalizio Che sicuramente Avete già iniziato a mangiare Il pandoro Il panettone Quindi Tenetevi in forma Se no a gennaio Diventate delle balenottere E come al solito Vi invito a lasciare Un mi piace Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanella Vi ricordo che sotto in descrizione Trovate il profilo Instagram Di Cassie E anche eventualmente Il profilo di Pokémon Millennium Quindi andate subito A seguirli Ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Grazie a tutti.